Ok ragazzi, allora 3, 2, 1, via! Forse il milanese, quello che lavora tutto il giorno e usa la scusa che non ha tempo per allenarsi, non sa che abbiamo aperto Control Fitness, che è la nuova combinazione appunto tra uno studio fitness e uno spazio bo-working. E finché tutta Milano non verrà a conoscenza di questa cosa, noi non ci fermeremo. Motivo per il quale abbiamo iniziato con una collaborazione con CityScoop per tutte quelle persone che si muovono in maniera smart usando un mezzo in sharing e che da settembre potrebbero trovare sotto la sella qualcosina. Adesso c'è una parte molto bella, che è attaccare su tutti questi, e non sono finiti, le singole etichette per creare dei gratte e vinci come questi. Si inizia! Ragazzi, questo è il mio ultimo. Vediamo se riusciamo a metterlo insieme dritto. Ok, ragazzi, allora, innanzitutto, avete tutti l'app con installato CityScoop? Eh, no, io non ce l'ho. Ah, se non sei iscritto puoi iscriverti adesso, codice CONTROLFITNESS, avrai anche 50 minuti in regalo. Ok, ragazzi, adesso che ce l'avete tutti, aprite l'app, scegliete uno scooter. Sotto la sella potrebbe anche esserci qualcosina. Comunque, ad ogni modo, ci vediamo poi tutti da CONTROLFITNESS. Ok, ragazzi, allora, 3, 2, 1, via! Ok, ragazzi, 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 ragazzi. Ok, ragazzi, 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 ragazzi. Ok, ragazzi, 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 Ah, allora ragazzi, com'è andata? Trovata! Ah, sei contenta? Sì, moltissimo! Così ora finalmente posso iniziare, ci alleniamo? Vabbè, noi andiamo allora. Vieni, ti do un passaggio in sinistro. Andiamo, va. Ok ragazzi, quello che avete appena visto era proprio lo spot che sanciva questa collaborazione che abbiamo fatto col brand CityScoot che, come avrete notato, non è propriamente il tipico brand che una persona associerebbe a tutto quello che è il mondo del fitness. Ma in realtà è proprio il nostro obiettivo, cioè trovare delle realtà e dei brand che in realtà abbiano proprio un impatto positivo sulla vita delle persone, come poteva essere ad esempio CityScoot che appunto ha questi mezzi 100% elettrici e in sharing, e andare proprio a contaminarci tra diversi mondi e andare magari anche a ispirare proprio il relativo pubblico. Quindi, questa era solo una delle varie collaborazioni che andremo a fare nei prossimi mesi. In alcune vi dovrò anche invitare qui sul posto, ci saranno dei posti riservati per chi guarda i miei video, quindi assolutamente non potete né perdervi le prossime iniziative, né potete non iscrivervi a questo fantastico canale che racconterà sempre di più questi dietro le quinte e queste iniziative. Mi raccomando, eh!